C'è una bella verifica domani se è sul pezzo, nel senso che noi abbiamo lavorato secondo me molto bene, sia sul piano fisico che sul piano tattico, con molta intensità, la prima settimana dove abbiamo lavorato tantissimo e questa settimana abbiamo lavorato una seduta al giorno anche per essere un po' più brillanti per la partita della Cremonese, però abbiamo lavorato bene questa settimana, però tutto il riscontro lo rivedi poi quando giochi, quando fai la partita. Chi è più continuo, non molla un colpo, vince sicuramente, perciò l'obiettivo di cercare di fare più risultati positivi, di avere un trend positivo è quello, quello che non abbiamo avuto in un certo periodo, la costanza che non abbiamo avuto lì, dobbiamo trovarla, l'obiettivo primario, l'ho sempre detto qual è, arriviamo ai 45, salvezza, poi pensiamo all'altro obiettivo. Non fare quei, no, io non... No, io non so, sono d'accordo con me però, quello di 32. Gli obiettivi vanno raggiunti. Io credo che la squadra, alle volte vedi come è in Serie B, se non hai il piglio giusto, per me è di giocatori in assoluto uno delle squadre più forti del campionato, l'ho detto all'inizio, ma lo ridico adesso. Fra l'altro leggo che stanno cercando di prendere dei giocatori, non importanti, di più, perciò è una squadra da prendere con le molle, lo testimone del 4-0 che hanno fatto contro il Perugia, è una squadra che la velocità, gli avaltamenti di fronte, sono molto bravi, perciò io la considero una delle squadre sicuramente più forti del campionato. Si attende una conferma? No, 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 guarda, ti dico la verità, non ci penso proprio, non penso. Guarda, non penso a questa cosa, io penso alla Cremonese, che è la cosa più importante, perché è quello, noi allenatori viviamo in base ai risultati, purtroppo è questo, che pallo va dentro, sei un fenomeno, pallo va fuori, non capisci niente, e perciò è inutile che io mi ponga delle cose per il futuro, che poi sono troppo navigato, perché sennò mi sento vecchio. Ma lei è realista. Bravissimo, io sono realista. Bravissimo, io sono realista.